ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo questi due ragazzi stanno creando un video per tiktok durante il loro balletto la porta alle loro spalle si chiude all'improvviso solo dopo rivedendo il video notano che dentro la stanza qualcosa li stava osservando il filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento questo filmato è stato realizzato davanti all'ingresso di un cimitero e mostra quello che sembra essere lo spirito di una qualche persona che si muove da una parte all'altra come se cercasse qualcosa il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento che si ricordiamo a guardare il documento che si muove da una parte all'altra Questo filmato è stato ripreso da un automobilista mentre tornava a casa di notte. L'uomo percorriva una piccola strada quando all'improvviso nota una strana creatura ferma sul ciglio della strada. L'essere sembra che non si muova nemmeno di un millimetro e rimane fermo lì come un predatore che aspetta la sua preda per poterla aggredire e poi mangiare. Molti animali fuggono da una stalla come se fossero inseguiti da un predatore non capendo cosa stesse succedendo. Il pastore tenta di fermare gli animali mentre fa di tutto per bloccare la fuga delle bestie nota uno strano essere apparire all'improvviso. Lo stesso emette degli strani versi che terrorizzano il povero pastore che decide di darsela a gambe. Il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato. Il video è vero in una stradina del messico una telecamera di sicurezza cattura un evento paranormale davvero impressionante uno spirito si materializza su questa strada muovendosi e passando proprio davanti alla telecamera l'entità sembra avere sembianze umane e si muove in modo disinvolto come se conoscesse bene quelle strade forse qualche anima rimasta attaccata nella zona dove viveva mentre percorre il tratto di strada che percorreva quando era in vita un esploratore urbano entra in un cimitero per ispezionarlo mentre fa alcune riprese vicino ad alcune lapidi riprende quella che sembra essere lo spirito di una donna che incomincia a prendere prima delle posizioni strane per poi spostarsi da una parte all'altra terrorizzando a morte così il povero esploratore il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento con il informe di un'altro che di un'altro ma andiamo a guardare il nostro corso il nostro corso è davvero tu cosa il nostro corso è davvero il nostro corso è davvero l'altro qu'è è davvero la cosa è davvero a la madre ya me asusti buonas sta in il arbol però non lo puedo quitar buonas buonas non se mira non lo voy a non lo voy a salir me voy a salir porque si como les digo vamos a salir ya porque si da miedo esto a la madre ahi esta e anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao